L'artista esistenzialista buonasera e oggi è una giornata particolare perché è la giornata mondiale della libertà di stampa, in un paese democratico ci deve essere la libertà di stampa, ci si può e ci si deve poter esprimere, chiaramente il mio pensiero va in questo momento a tanti cronisti, freelance, tutti coloro che perdono la vita, non so, Iran-Iraq, guerre del golfo, queste guerre, tutte quelle persone che vanno a frugare nei loschi affari della mafia e quindi sono costretti ad avere le scorte per loro e loro famiglie perché una volta che si fanno scelte quella tipologia rischiano di essere veramente anche i familiari, quindi io spero che questo paese sia sempre più democratico e ci si possa esprimere nei modi dovuti il mio modo possibile e rischiando il meno possibile perché è giusto sempre fare cronaca, farle in un certo modo senza avere diciamo pressione di nessuna tipologia, come giusto che sia. L'artista esistenzialista buonasera da tutti.